Una partita giocata bene contro l'Irlanda, una partita abbastanza semplice dove abbiamo dominato per tutto il corso della partita, la seconda partita contro l'Irlanda è andata un po' meno bene, però l'importante era centrare la qualificazione e ci siamo riusciti. Io sono molto contento per i miei gol che sono i primi in under 21, ho fatto tre gol e due assist quindi posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Sì assolutamente, visto anche le prime due partite di campionato che non sono andate benissimo per quanto riguarda me, sono comunque contento di aver reagito, di aver dato una buona reazione, quindi adesso continuo così al Milan e cerco di fare sempre meglio. Adesso così non so dirtelo, però credo che la volontà di far bene ci sia stata, quella c'è sempre, è chiaro che a volte ci sono un po' di difficoltà che si creano in partita, però comunque l'importante è cercare di reagire e imparare dagli errori che si fanno di partita in partita, quindi io cerco sempre di mettermi a disposizione del mister e cerco di migliorarmi sempre. Sì assolutamente, è una partita importante come era quella di Bologna per comunque dare una svolta, un segnale importante alla squadra, ci siamo riusciti e quindi adesso dobbiamo continuare così su questa strada cercando di fare più punti possibili.